cari amici di gogo verde come promesso è arrivata la nuova kv 310 della volpi sarebbe la forbice top di gamma diciamo della gamma appunto di forbice a batteria cordless quindi con batteria integrata nel manico andiamo ad aprire la confezione insieme per vedere la dotazione interna di serie abbiamo i libretti di istruzioni a differenza della kv 300 non so perché probabilmente è un pre produzione quello che ci hanno inviato non c'è il porta forbice ma abbiamo comunque sempre le due batterie il caricabatterie dove va alloggiato e dove c'è l'indicatore di carica la cassettina con gli oli attrezzi il grasso per smontare rimontare fare la manutenzione ordinaria delle forbici e appunto le nostre forbici ed eccole qua le forbici sono molto simili come design dell'impugnatura alle 290 più che alle 300 abbiamo l'impugnatura dalla sagoma pura moderna un bel grip abbiamo a differenza ce l'abbiamo nel grilletto adesso vi farò vedere perché la battella forbice è molto simile rispetto agli altri due modelli cambia un po il peso cambia la dimensione della lama che qua permette un taglio fino a 30 35 mil 30 mm diciamo così a seconda poi del legno che andremo a tagliare poi andiamo a vedere insieme al nostro collega massimo come taglia almeno due tre vigneti qui abbiamo la batteria prima cosa da fare prende la batteria inserirla togliamo il nostro la nostra valigetta teniamo premuto bip accendiamo per accenderla come gli altri due modelli che abbiamo visto in precedenza due click e le forbici vanno come potete vedere io premo il grilletto è automaticamente ad impulso la lama si chiude si apre la velocità della lama sembra molto simile alla 300 quindi abbastanza veloce però qui abbiamo una differenza sostanziale rispetto alla 300 appunto se noi teniamo premuto il grilletto come potete vedere sentire scusate ha fatto un bip se noi andiamo a riaprire vediamo la novità di questo attrezzo il taglio è progressivo è una delle poche forbici con batteria integrata ad avere la progressività di taglio oltre tutto mi ha molto positivamente molto impressionato la questa funzionalità perché è integrata molto bene all'interno delle forbici rispetto per esempio anche la sorella kv500 in questo caso sembra molto molto più fluida vedete come si comporta a tanto premo il grilletto tanto si chiude la lama un po di gioco verso la fine ma quando poi andiamo a vedere anzi vi faccio già vedere direttamente con un pezzo di legno come si comporta nel taglio eccoci qua abbiamo il nostro bel ramo e andiamo a fare il nostro primo taglio la forbice taglia molto bene anche perché viene anche affilata abbastanza bene di serie come abbiamo potuto notare dalla volpi la lama quindi sappiamo già che metà del taglio se non di più lo fa proprio una lama ben affilata anche i tagli di traverso vengono effettuati molto bene e la cosa bella appunto è la progressività quindi io vado a tagliare man mano che taglio man mano che premo il grilletto la forbice affonda all'interno del legno cosa che mi ha colpito molto solitamente quando hanno questo tipo di meccanismo cosa succede quando vado a effettuare un taglio di un legno un po più duro la forbice nonostante la progressività tende a bloccarsi perché il motore non riesce più tra virgolette a tagliare come vedete invece qua il taglio lo completa integralmente con la progressività del dito quindi non ho assolutamente nessun tipo di blocco nessun tipo di tremolio o comunque incertezza di queste forbici poi ovvio posso fare dei tagli molto più veloci come potete vedere le forbici non stanno assolutamente mostrando alcuna incertezza e sono molto colpito da questo perché sono molto colpito da questo per il prezzo a cui viene presentata queste forbici queste forbici vengono presentate nella fascia di pezzo dei 3 400 euro stanno intorno ai 3 40 3 50 come prezzo consigliato al pubblico abbiamo due batterie nella confezione quindi non dobbiamo per forza di cosa andare a comprare delle altre batterie e risulta per un utilizzatore hobbistico comunque un utilizzatore che non vuole fare una potatura da otto ore quindi non vuole un attrezzo professionale ma vuole comunque un aiuto nella potatura di tutti i giorni senza dover utilizzare le mani con tutte le conseguenze che ne seguono e comunque vuole un attrezzo che non è necessariamente di bassa qualità ma ha delle funzionalità già più avanzate che appartengono solitamente a forbici di fasce molto più alte ovvio poi bisogna anche dire che manca un indicatore di carica concreto nel senso che abbiamo questo led che ci indica la carica con il solo il colore quindi abbiamo verde giallo arancione rosso che ci danno ad indicare quindi un 80 100 e così via ascendere la velocità delle forbici del taglio mi è impressionata anche questa positivamente questa doppia modalità di taglio è molto comoda può risultare molto comoda anche se vogliamo fare dei tagli di precisione o comunque fare che ne so un qualunque tipo di pulizia senza dover per forza di cose stare attenti perché questo perché molte volte come avete visto prima se voglio utilizzare la progressività posso anche fermarmi in tempo vedete tanto prego il gridetto di qua cavolo cambio e taglio vedete questa è questa scusate ragazzi ma è veramente una cosa molto carina per un attrezzo di questo prezzo adesso che abbiamo visto le forbici sul nostro bancone l'andiamo a vedere in campo aperto assieme al nostro massimo ultima cosa che vi ricordo la potenza del motore dichiarata e viene dichiarata la stessa potenza sia in questa forbice sia negli altri a due attrezzi cioè la 290 e la 300 cambia il diametro del taglio la durata della batteria ve l'anticipo subito non hai una durata di 8 ore non riesci a completare la giornata volpi dichiara un'ora e mezza due ore batteria circa è da verificare secondo i calcoli che abbiamo fatto più o meno siamo sull'ora singola batteria quindi la batteria ci permette di potare per un'ora circa dipende sempre poi ovviamente dalla frequenza di taglio dalle dimensioni del taglio che viene effettuato e da altri fattori come quanto è stata caricata la batteria lo stato di salute eccetera quindi come già detto andiamo fuori andiamo a provarli sul campo eccoci qua dopo aver visto le forbici studio facciamo una prova in campo una breve prova in campo del nostro modello di punta della gamma di forbici cordless della linea volpi kamikaze prendiamo la batteria andiamo a scusate come andiamo a inserirla all'interno del manico come abbiamo visto prima un bip due volte con il grilletto e abbiamo il taglio a impulsi in questo caso voglio fare un cambio di modalità e avere un taglio più progressivo come potete vedere come le forbici anche più evoluta abbiamo nella forbice comunque dalla fascia di prezzo sotto i 400 euro un taglio molto progressivo andiamo a fare una tipica operazione di pulizia quindi abbiamo questa vite partiamo dal basso magari come potete vedere non ho una grande difficoltà nel tagliare la forbice comunque viene il passo potete anche vedere da qua anche con i due getti uniti il taglio avviene lo stesso vi ricordatevi di non tenere troppo premuto il grilletto perché sennò le forbici si spengono cioè si disattivano in questo caso vi sto facendo vedere dei tagli da esempio più che un'operazione di pulizia anche qui possiamo vedere che vi faccio vedere il cambio di modalità perché ho cambiato per sbaglio prima non mostrano lentamenti continua comunque a tagliare è sorprendente per un attrezzo di questo prezzo anche non posizionandosi così ma posizionandosi a metà le forbici continuano a tagliare senza nessun tipo di problema allora ovviamente adesso abbiamo visto dei tagli leggeri perché non posso fare la pulizia di tutto il vigneto perché non è nostro giustamente ci penserà chi se ne occupa la teniamo chiusa con il sistema di sicurezza allora per la fascia di prezzo in cui si colloca questo attrezzo qua anche il nostro operatore non so se è d'accordo abbiamo comunque un attrezzo che taglia bene taglia senza rallentamenti anche molto progressivo non è un non dà l'idea di non dà l'impressione di essere qualcosa di sottomarca diciamo di comunque un attrezzo buttato lì per essere venduto e basta questo qua ci dà l'impressione di essere qualcosa con cui inizierà a lavoricchiare sul vigneto ovviamente rispetto ad un attrezzo di una marca come può essere Pellec come può essere Electro Cup come possono essere i concorrenti di fasce di prezzo molto più elevata la differenza sta qua sì è più pratica perché abbia una forbice di 1,2 kg in mano che da un certo punto di vista è leggera dall'altro pesante perché ci sono attrezzi più leggeri che hanno la batteria portata qua è la comodità di avere la batteria direttamente sul manico lo svantaggio è la durata l'oro e Volpi dichiara è un po' altalenante la dichiarazione di Volpi siamo dall'ora e mezza a batteria alle 3 ore qui vedendo le specifiche vedendo la potenza di taglio mi direi un'ora a batteria un'ora e mezza a batteria quindi con due batterie riesci a fare 2-3 ore di lavoro dipende sempre dall'intensità del taglio e dalla frequenza e dalla velocità in un taglio di pulizia se sei molto veloce se sei molto bravo la forbice di sta dietro hai un consumo più elevato di batteria di conseguenza non fai un vigneto giustamente non riesci a fare un lavoro di una giornata 8 ore non le fai quindi o hai più batterie però poi con un attrezzo del genere non so per 8 ore di fila il motore che tipo di ripercussioni può avere ma comunque se uno ha un piccolo vitigno un piccolo frutteto diciamo con cui fare la pulizia se no si vuole utilizzare un troncarami è un ottimo attrezzo specialmente per la fascia di prezzo in cui è indicata spero che questo video sia stato di vostro interesse se le forbici vi piacciono o non vi piacciono le avete usate lasciateci un commento su youtube su facebook dove volete fatemi sapere cosa ne pensate e arrivederci al prossimo video grazie a tutti 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 grazie a tutti